Ciao ragazze, scusate per l'assenza ma sono dietro alla scuola, chi è come me quindi è alle porte della maturità mi potrà capire e dato che oggi non avevo molto da fare ho deciso di fare un video dove vi parlo di un'applicazione molto carina a mio parere che si chiama KissTube, allora principalmente quest'app è solo per i dispositivi android e per chi volesse scaricarla è questa qua questa qui con questo cuoricino qua e cosa serve? Serve a vedere e ascoltare canzoni e vedere film in streaming ovviamente film interi, non come Youtube che ci dà gli spezzettoni, quindi film interi e possiamo scegliere il genere di film che vogliamo vedere e lo stesso procedimento lo possiamo fare con la musica, vi faccio vedere, allora è fatta in questa maniera qui c'è la musica, qui c'è il cinema con tutti i generi di film, qui c'è altro ovvero le pubblicità, il teatro e poi questa è la pagina dove se avete un canale Youtube vi consiglio di associare quindi vi contatteranno, a me mi hanno contattato e mi hanno chiesto un video recensione per questa applicazione e quindi sono qui oggi a registrare questo video recensione allora è un'app che io sto utilizzando da molto, quindi una settimana abbondante mi sono trovata benissimo perché comunque io sono una fanatica dei film quindi guardo film a gogo la sera e quindi andare su questa applicazione e guardare un film intero senza blocchi, senza nulla è fantastica quindi promossa al 100%, quindi questa app sicuramente farà parte del video ce n'è per 3 mesi app preferita quindi loro vi contattano vi chiedono di fare un video recensione come questo e vi chiedono di votare sul Play Store vi lascio tutti i link nell'info box poi loro se volete vi pubblicano nella loro lista di amici ovvero quando le persone vi faccio vedere andranno sulla categoria amici troveranno questa schermata qua vedete? ecco esempio qui c'è il mio canale e cliccano sul canale desiderato e vi porteranno ora vi mostro sulla pagina del canale di Youtube quindi secondo me è un'applicazione facile dove si può anche far pubblicità chiamiamola così scusate quindi questa è il succo di questa app come funzionano e le sue funzionalità io spero che il video vi sia piaciuto premetto che dopo questo video non so se girano altri video perché sto studiando a manetta quindi sono impegnata con la scuola però comunque cercherò di farmi sentire un pelino più spesso anche sulla fanpage quindi io vi mando un grossissimo bacio a tutte e chi è come me che è alla porta del mozzetta vi mando un grazie in bocca al lupo e ci vediamo presto ciao ragazze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti